Ciao a tutti, oggi vi propongo dei golosissimi brownies al cioccolato cotti in friggitrice ad aria. Dovete assolutamente provarli. Per prima cosa faccio sciogliere al microonde o a bagnomaria 200 g di cioccolato fondente, poi vado ad aggiungere 100 g di burro tagliato a dadini. Mescolo bene il tutto fino a quando non si scioglie anche il burro e metto da parte. In una terrina mescolo con una frusta 3 uova con 160 g di zucchero e la scorsa grattugiata d'arancia. Poi vado ad aggiungere il cioccolato fuso e continuo a mescolare con la frusta. Come cioccolato ho utilizzato il cioccolato fondente ma va benissimo anche il cioccolato al latte. Infatti conservate questa ricetta per quando vi avanzerà l'uovo di Pasqua. Poi aggiungete 70 g di farina. Io ho utilizzato la farina senza glutine, in questo caso ho utilizzato Mix It della Cher. Vi ricordo che il mio libro lo trovate in tutte le librerie e su Amazon. E poi ho aggiunto anche un cucchiaino di lievito per dolci. Continuo a mescolare con la frusta fino a quando il composto non risurterà privo di grumi. Ho foderato con carta da forno una teglia rettangolare ma va benissimo anche rotonda del diametro di 20 centimetri. L'ho foderata con carta da forno verso all'interno il composto e lo livello con la spatola. Io ho utilizzato la creggetriscia d'aria per cuocere i brownies. va benissimo anche il forno. Sopra aggiunto anche dei confettini di cioccolata colorati. Vanno benissimo anche delle gocce di cioccolata oppure delle nocciole tritate. Faccio cuocere a 180 gradi per 20 minuti. Se invece utilizzate il forno sempre 180 gradi per 25 massimo 30 minuti, non di più. Lasciate raffreddare bene prima di togliere la carta da forno e decorate con zucchero a velo. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta. Provatela mi raccomando e fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo presto con un nuovo video. Un bacione a tutti dalla vostra Meri. Ciao!